Un libro bianco e 82 pagine di opere incompiute sulle quattro province abruzzesi. Ci sono voluti mesi per realizzarlo. Per farlo è servito l'aiuto dei comuni che avevano la responsabilità di segnalare la situazione sul proprio territorio. L'iniziativa era finalizzata a conoscere sprechi e disservizi e a presentarlo l'assessore Donato Di Matteo. Ci sono un numero notevole di incompiute in Abruzzo che riguardano il settore dei trasporti, il settore viario, anche il settore della logistica, il settore dell'edilizia sanitaria, tutta una serie di settori. Per cui noi abbiamo pensato all'inizio della legislatura, io occupandomi di lavori pubblici, di voler fare un'analisi chiedendo la collaborazione di tutti gli enti per vedere quali sono le opere che sono rimaste ferme. Secondo i dati, la provincia più incompiuta è quella di L'Aquila con il 35%. Ad un punto in meno si attesta Chieti al 34% e poi, con un bel po' di punti in meno, testa a testa tra Pescara e Teramo che segnano ognuna il 15%. Io mi aspetto che nell'ambito dell'edilizia sanitaria, con le chiusure di diverse strutture, quelle strutture vengano ridestinate e che tanti soldi spesi in queste strutture fino a qualche mese fa non vengono buttati al vento. Sono delle strutture importanti, c'è un'adeguata politica sanitaria di riconversione delle strutture e su queste strutture noi poggiamo l'integrazione di attività sanitarie, di offerte sanitarie che fino ad oggi sono mancate. Lo studio è stato suddiviso in sei aree tematiche, edilizia scolastica, edilizia sanitaria, edilizia sociale, impiantistica sportiva, risanamento ambientale urbano e viabilità stradale, ferroviaria e infrastrutture. In testa alle classifiche ci sono le incompiute sulla viabilità. I motivi delle opere ferme sono di diversi tipi, o per motivi burocratici, o per motivi che sono finiti i finanziamenti, o perché i progetti non erano adeguati, sono subentrati delle situazioni particolari. L'impegno nostro è quello di, per quelle opere incompiute che hanno una rilevanza strategica, territoriale, di metterli a posto per dargli una destinazione certa e evitare che esistano tante cattedrale nel deserto, nel nostro Abruzzo.